Ma si sta battendo, morirà nessuno! No, è finito, perché qui c'è l'Etna che sta scoppiando Voi tu guarda qui, non c'è l'altro Se siamo i primi a pubblicare queste cose, questi post Poi non ci verranno dire gli altri, l'abbiamo capito che non si è ruttando Siamo i primi, ma del Simona Ma tu hai detto che era fantastico, non proprio Non è proprio Non posso dire a Fatti che vuoi capare Non potete mangiare la contaglia Non potete fare la contaglia Non vi ricordate quando è stata contattata a Fatti? Grazie 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 Sì 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 Madonna che esplosione Madonna Sì 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 Questo è il buon carnevale dalla gentilissima Etteda, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info